Siamo in Italia, nel Zoo Tecnico Roana, e stiamo guardando la installazione di biogas che fu costruita per Roana da Progest Ambiente, che è un integratore di sistema che specializza in creare e produrre questi tipi di planta di energia rinnovabili usando biogas. Abbiamo circa 1.100 bufale, quindi avevamo la necessità di trasformare i rifiuti, i reflui di questo nostro bestiame in qualcosa che fosse funzionale all'ambiente e comunque anche a livello economico potesse portarci dei benefici. Immettiamo liquame aziendale che è circa 60 metri cubi al giorno. In questo modo noi riusciamo a trasformare il liquame in gas e quindi successivamente in energia che mettiamo nel sistema, in rete. Risulta essere necessario sia controllare la miscelazione del liquame all'interno e di notevole importanza il controllo del parametro di temperatura. Mitsubishi Electric è stato coinvolto in questo progetto da Progest Ambiente. In questo progetto sono utilizzati i controllori della serie Q-Platform di Mitsubishi Electric, oltre all'inverter della serie FR-F800, il nostro scada di supervisione MAPS e la rete di collegamento CC-Link E-Field. Per la comunicazione che noi andiamo a stabilire tra il PLC Master e gli inverter distribuiti in campo, utilizziamo la CC-Link E-Field, sfruttando la velocità della rete per poter effettuare delle operazioni, soprattutto da remoto, e quindi modificare parametri negli inverter ed avere un tempo piuttosto rapido di risposta di quelle che sono le grandezze fisiche che andiamo a monitorare. Oltre alla velocità della rete di comunicazione abbiamo apprezzato in particolar modo l'apertura della stessa che ci consente di poter effettuare da noi delle modifiche a seconda di quelle che sono le differenze e esigenze dei clienti o delle aziende le quali andiamo a realizzare degli impianti. È bello vedere la CC-Link E-Field di essere usata in un'applicazione dove quello che normalmente sarebbe risposto di risposta è ora potuto essere usato come un risultato, quindi non solo è usato per generare potere, ma è anche permettendo di essere usata in un modo risposto di risposta in un modo risposto ambientale. Le aspettative che noi avevamo riposto nell'utilizzo della CC-Link E-Field sono state ampiamente soddisfatte e probabilmente con il nostro campo di applicazione non sfruttiamo appieno la potenzialità della rete. Progest Ambiente ha fatto un grande lavoro di designare e installare questi sistemi in Italia. Penso che è anche importante considerare dove possono andare in futuro e che tecnologie possono essere disponibili per supportare. Alla ciò che presta è 真的 , cioè gli altri bambini hanno usato un'attività. A questo ciò che è un modo da insinove attrazionei per fare iлегci una possione le processi in a migliore che potrebbero essere usato. In questo modo, potrebbe essere usato la possibilità di scegliere quella più piccola e combino che questa sensazione con il rapporto che è già existente e per avere un migliore o Rentine in futuro. Alla prossima è usato per aggiungere il modulo. in the future.